Divampano le polemiche dopo l'annuncio che sette immigrati ospitati a Moscufo nel Pescarese sono risultati positivi al Covid-19. Ci sono istituzioni che devono assumersi la responsabilità di quanto sta accadendo e l'attacco verso il governo del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Sette immigrati dei 50 ospitati obtorto collo a Moscufo sono risultati positivi al Covid-19, che significa aver esposto i 3.000 abitanti di un piccolo comune a una potenziale bomba sanitaria che ora non sappiamo quali conseguenze potrà avere. Vogliamo sapere, prosegue Sospiri, quali sono i possibili risvolti sanitari emergenziali e le ricadute sulla popolazione. Per questo chiedo che i 50 migranti vengano trasferiti immediatamente valutando la possibilità di sottoporre a controlli sanitari d'emergenza e d'urgenza tutta la cittadinanza di Moscufo per restituire serenità a chi oggi sta inevitabilmente vivendo ore di ansia e di paura. I sette casi di positività di Moscufo costituiscono la gran parte dell'aumento odierno dei positivi in Abruzzo al Covid-19 che è di nove casi, otto dei quali in provincia di Pescara, uno in provincia dell'Aquila. Così in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.398 casi totali. Al momento 16 pazienti, meno uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, uno, dato invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 107, più otto rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti, invariato rispetto a ieri, 2.802 dimessi guariti, più uno rispetto a ieri, di cui otto, che da sintomatici sono diventati asintomatici, 2.794 sono invece risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 124, con un aumento di 8 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 130.877 test.